San Siro, terzo Vescovo di Genova vissuto nel IV secolo, illumina con la sua figura la riflessione sul grande tema della misericordia. I fedeli della parrocchia san margheritese che lo venerano come titolare hanno seguito questo percorso di approfondimento nel tempo di preparazione alla festa. Due temi accompagnano il cammino della novena, il primo tema, il tema della misericordia, Gesù, il volto della misericordia del Padre, e il secondo tema, la comunità cristiana, la Chiesa. In che modo la figura di San Siro illumina questo grande tema della misericordia su cui la Chiesa Universale sta riflettendo quest'anno? Ma i Santi ci accompagnano, ci guidano a riscoprire, a riaccogliere oggi la parola della misericordia e vogliamo sentire i Santi vicino a ciascuno di noi nel cammino di questo anno della misericordia. La novena è culminata con la celebrazione eucaristica che il Vescovo Alberto Tanasini ha presieduto aprendo di fatto il triduo di preparazione. Nell'Omelia ha proposto un'articolata riflessione sul tema della relazione fra parrocchia e diocesi, descrivendo il mandato apostolico e la nascita delle prime comunità, di cui la riflessione di Sant'Ignazio di Antiochia, Vescovo e Martire del II secolo. La Chiesa deve essere come una cetra, dove ci sono tutte le corde e le corde devono suonare in armonia, sono legate tra loro, non possono andare separate, ma debbono essere... e la figura del Vescovo è la figura che tiene unito tutta questa realtà. La diocesi è famiglia, il Vescovo padre e fratello, ha aggiunto Monsignor Tanasini soffermandosi sui documenti conciliari. Il Vescovo serve la volontà di Dio per la porzione di popolo che gli è affidata. Le singole parrocchie vivono della comunione con la diocesi e della certezza della fede che scaturisce dall'appartenenza alla Chiesa Universale. Con la celebrazione presieduta dal Vescovo, la festa di San Siro è entrata nel vivo. Nel momento della festa il parroco deve ringraziare per tante forze, tante persone che si rendono disponibili a preparare la Chiesa, a preparare anche i momenti esterni della festa. Dopo le celebrazioni in Chiesa, vivere un momento insieme anche in piazza per raccoglierci tutti insieme e portare dentro il quartiere quella parola grande che Gesù ci consegna continuamente, la parola dell'unità, il camminare insieme.